Beh, lì canottari, bentornati, qui Yoshi e oggi siamo qui con il primo squad builder effettivamente pensandoci se poteva uscire un po' prima, visto che è considerato che il gioco è uscito da due giorni però ho fatto una robetta da 25k che comunque, con i primi FIFA Points che avete preso dall'Ultimate i primi pacchi aperti, incontri principali, insomma, vari modi, i primi squad battle soprattutto è una cifretta con cui riuscite a tirare su una bella squadra buggata si adatta a più moduli, perché si adatta secondo me sia al 352 classico che sto a usare sia un rombo, sia un 4-4-2, sia un 4-2-3-1, insomma, diciamo che è buono per svariare un po' su tutti i fronti quindi provate un po' tutti i moduli del gioco con questo modulo qui e vi butto poi in mezzo anche una super sub molto simpatica che sto utilizzando nel mio team perché per ora ho provato solo giocatori, qualcuno buggato, qualcuno un po' più forte però diciamo che i top ancora non li ho presi e non li ho provati vi metto subito il bug supremo che questa qua la sto utilizzando sia in Rivals, l'ho usata un po' in Battle, l'ho beccata pure al Draft questa non c'ha senso ragazzi questa non c'ha veramente senso questa qua ma poi c'ha una carta, ok, il 3D debole a parte che la mette pure col sinistro ma a parte i playstyle che quest'anno devo dire che sono veramente utili perché si sente molto di più se un giocatore ce l'ha o meno per quanto riguarda tiro, velocità fisica e tutto quanto ma questa poi c'ha la quick step c'ha la batteria non si stanca mai due all'aereo 1,78 questo è il tiro passaggio ok il dribbling con 86 di bb 88 di forte non la sposti è impossibile spostarlo questa super sub costa 2-3 mila crediti in realtà potete fare anche Ramirez Muriel io per ora gioco con Ramirez Muriel solo che ti devi andare all'inca il campionato femminile le carte alcune sono forti tipo sto usando la Rolfo però costa 50 mila di conseguenza io questa la prenderei a parte la utilizzerei super sub per fallentrata che ha tutte le caratteristiche più che adatte per 93 di resistenza allora io inizierei con la squadra importa Meret ma ve posso dire potete mettere Milinkovic se volete spendere un po' di meno importa se arriam soggettivo con chi ve trovate bene tant'è uno qualsiasi da se arriam come avete ben capito per quanto mi riguarda starter team la cosa migliore è seria manca solo per dirti visto che c'avevo il dubbio sui terzini abbiamo inserito giocatori di un altro campionato e ho fatto una tripla intesa però diciamo che sono i portieri sì questi qua che poi devo dire ho provato pure qualcuno uno per l'inca quello del Real Madrid femminile la francese che artava 1,78 le sue parate poi chiaramente quando tirano il bombone sotto al set non ci arriva manco per sbaglio però sì o Meret per me ha sempre parato c'è sta Provedel c'è sta Patrizio diciamo che non andrei cover il bassi secondo me 83 paghi 2008 è giusto il limite Provedel se vuoi risparmiarsi 2000 crediti poi abbiamo Balde Balde l'ho provato e in realtà nonostante 64 di fisico a parte che gioca a destra che è veramente molto buono perché essendo Mancino a destra poi lo scambi con quello a sinistra che è destro così c'è il terzino sinistra a sinistra e il terzino destra a destra come avete capito il terzino sinistra commesso in rosa è destro è forza le cose più forti del gioco come ogni anno inizio il gioco dagli ultimi tre FIFA e questo infatti questo poi l'ho provato ovviamente ho fatto 5 ah no perché l'ho trovato non scambiabile 10 volte probabilmente mi sono sbagliato e l'ho scartato e l'ho fatto pure con questo 15 partite mi sono trovato molto bene perché fisicamente tieni in botta 4 deviate debole bravo pure col destro velocissimo è veramente un razzo fisicamente non è vero che ha 60 te con 47 aggressività ma è vero difende pure bene ma anche perché poi c'ha la volpetta che pure questa non è malumente la possibilità di vincere i contrasti in piedi che consente di tenere le palla vicino al piedi dopo l'intervento quick step un'altra caccia leri molto velocemente insomma quest'anno vi suggerisco di andare a vedere molto spesso quelli che sono i play style dei giocatori soprattutto secondo me il lato difensivo perché se no non un pieno mezzo pallone poi abbiamo difensori centrali Calu allora qui il discorso è o volete proprio spendere niente e vi piate Calulu ok che sta a 900 crediti oppure potete fare l'evoluzione di un giocatore seria c'è stanno D'Ambrosio e fisicamente niente di che oppure c'è sta Milenkovic che Milenkovic potrebbe essere buono diventa una carta con tanta velocità rimane seria e tanta roba poi invece se volete fare una roba full Italia come avete detto io penso dei facchiellini che potrebbe essere utile per delle ibride successivamente che poi Milenkovic potete fare il welcome di benvenuto prende da 79 80 con 65 di velocità poi glielo rifate sopra e diventa con 89 di fisico 82 di fisico 80 di velocità una signora carta con co-paisi protector delle evoluzioni della velocità del difensore diventerebbe un bel cartone Milenkovic tra parentesi che play c'è solo due c'è solo due all'aereo poi se cercate uno più lento e grosso io ho giocato anche una decina di partite con Smalling mi sono trovato bene è lento però è uno che tiene botta poi abbiamo Endika un altro è grosso o paghi 800 crediti pure questo dietro come la penso lo sapete benissimo spendi poco a inizio gioco ma poi questo è un builder tu spendi 20k crediti nel senso se levi Meret già sono 20k crediti di builder costa una carta 22k poi se li sniperate ognuno ci perdete quei due minuti 200 crediti di meno l'uno a parte questi che stanno a scarto comunque vai a pagarla 20k sono 20k di builder giusto per startare sono baggati si adattano a tutti i moduli poi ovviamente mi sono fatto un giro su tutti i due campionati però mi rendo conto che Serie A appena inizia è sempre la migliore perché costa poco e c'ha delle carte sbruccatissime e poi qui arriviamo a quello che è Spina riprovato pure quest'anno l'hanno calato i due d'overall cosa buona di Spina è che fa pure le S quindi se dovete fare degli switch strani magari con Terzino che si alza ti potrà un po' mi sa che lo farò con Rise e tutto quanto Spina è uno che poi gioca sia difensore central a 3 sia esterno destro giochi un po' più alto sia terzino destro se scambia cobaldo insomma è un altro di quelli molto versatili che si presta veramente tanto e c'ha pure quick step pure lui e c'ha pure controllo di palla rapido è il passaggio non è affatto male l'ho riprovato è forte poi è grosso in game c'è puoi avere 60 di forza ti sposta perché è grosso poi ovvio se arriva Alland ti sposta lui però questo costa 4.000 Alland costa 400.000 è un po' diverso poi ci abbiamo quadrato riprovato pure quest'anno quadrato una bellezza incredibile pure lui ha 200 cosi su dribbling giustamente bello 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 schilla bene se muove bene i td a d e d se fa tutta la fascia l'hanno calato un pochettino ma onestamente per inizio gioco pagato 1.800 è tanta roba si comporta veramente bene è usato esterno volendo pure terzino lo usi centrocampo a 3 lo usi un po' più alto o ala ci finalizzi un po' de meno fa veramente di tutto col grande quadrato poi che ci abbiamo l'hollo pelle l'hollo pelle io come ogni anno lo sapete è capitano darò però io ogni anno lo provo e mi rendo conto che è una roba imbarazzante è veramente troppo forte perché poi te lo fanno alto alto 3.4 è 1.86 fisicamente è grosso c'è la batteria che quest'anno la batteria a centrocampo è stratosferica perché vuol dire che è un giocatore che ti fa avanti e indietro con alto alto tutta la partita ma che allo stesso tempo non si è stanca costa mille crediti i pellegrini cioè il pellegrini costa veramente una cazzata 1.800 quanto ho pagato in 83 1.400 e col fatto che c'è la ha fatto pure i trivele ho capito infatti hanno fatto un paio di cambiamenti di giocare la trivele clamorosi e c'è pure il finesse è forte è veramente forte deve recuperare un sacco di palloni e non si stanca mai soprattutto quest'anno questi qua io proprio ho trovato Bellingham non scambiabile l'ho messo di fianco ti ci fai 120 minuti ma arrivano al 120 che stanno full stamina sono freschi infatti un po' andrebbe sistemata sta cosa perché è ok che ci arrivi bene non ci arriva fresco che pare che è appena iniziata la partita non c'ha senso però tanta roba e 1.800 è pazzesco poi fa tutto perché tira bene ah passa guarda ma sai che passaggio mi sono reso conto c'è un passaggio stratosferico il dribbling 87 di controllo difensivamente difende fisicamente diane perché è grosso i trades c'è là c o c a t recupera un sacco bello 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 poi abbiamo Ben Nasser giocatore più costoso della squadra 5.000 crediti e allora Ben Nasser che vedevo ragazzi 4-3 almeno c'erate pure un po' a descritto a me piace giocare con uno mancino e uno destro in genere al centrocampo così il bombone diretto senza che devi rientrare sul piede e tutto quanto è una bella carta fa tutti i ruoli al centrocampo quindi lo riesce a muovere bene l'unica cosa è che non c'ha play style Ben Nasser però per inizio gioco sinceramente per 4.000 crediti secondo me non è un grosso problema c'ha c'ha tutto completo poi mi ricordo l'anno scorso quanta era buggata la carta quella della Champions poi guarda che dribbling sai come la tiene bene e c'ha il passaggio passaggio a centrocampo ho notato che questa nuova e due filtrantoni mandi la gente in porta come niente veramente tanta roba qui ci abbiamo Ferran Torres messo un po' per un discorso di intesa più che per perché quanto è forte Ferran è un giocatore che può fare un po' tutto o metti di a trapunto o butti a stermanto c'ha 87 d'accelerazione c'ha pure controllo di palla n'è niente di che poi dopo un tempo magari per rompere il cazzo fate levate e fate entrare quella che vi ho fatto vede prima e arrivate i famosi 25k con tutta la super sub però insomma è uno che a inizio gioco può dire tranquillamente la sua è un 4-4 è un 84 piazzato te può dare sui problemi davanti arrivano i top sono Gerard De Lofeu che giocatore pure questo quest'anno come vola eccoci qua mi aiuto qua che stanno a famo casino Gerard De Lofeu De Lofeu ragazzi c'è la trivela è già appunto in più controllo di palla controllo di palla tiki taga io ti posso dire questo riprovato pare un vero tre presenze pure questo non so che cazzo gli è successo e switch ogni volta trovo quell'unipa chi butta nella lista però è forte pure De Lofeu mi è piaciuto poi c'è una bella accelerazione non lo fermi facilmente 87 dribbling a inizio gioco è tanto alto diciamo che questo paghi 1500 2000 crediti 2008 insomma 2008 sembra un buon compromesso come carta a inizio gioco e poi vabbè il top player della squadra Luis Muriel è inutile è inutile dirlo come ogni anno il fenomeno pagato 1700 12 partite 13 gol 8 assist troppo forte il giocatore come al solito completo i passaggi viltranti sono più precisi che poi Muriel vabbè ok trivela pure lui e ne ho fatto un paio effettivamente gli ha sbragato la porta è rapido come controllo di palla talento natura vabbè Muriel Muriel di ogni anno calato sì fortissimo anche tanta tanta roba si muove bene però pure con l'R1 a fallonello stretto si muoveva e faceva tutto sgusciava tutto quanto poco poco da dire sinceramente quindi la squadra è questa qui stanno a 31 perché gli devi mettere l'allenatore della Liga ti ammetti c'è sto scemo dei sciavi eccoci qua 33 e come ho detto poi in game andate a switch a Spinazzola e Bald se volete giocarla così in modo che c'è il terzino destro che è destro il terzino sinistro che è sinistro poi se volete giocare a 3 potete cambiare tranquillamente e poi decidete chi mette difensore centrale da Bald e Spinazzola alza a quadrato a esterno loro due mediani in teoria sono i Bald a sinistra e poi lui c'è 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 con loro due punte o lui punta e c'è c'è dove lo feo dove gioca 4-3-2-1 le due punte sono queste a quadrato mettete c'è c'è con centrocampo a 3 quindi insomma siate piani di alternative io al momento sto rigiocando con vi faccio vedere un attimo mamma che cagata sti menu vi faccio rivedere le tattiche di quest'anno ma che cazzo ho messo mamma se ho sbagliato alle mie rosa mi fa una piega ho rimesso le tattiche questa qua è quella con cui sto a giocare adesso tipo questa qua la consiglio ho pagata mille crediti e tiene botta ok questa giusto per l'intesa per Bellingham niente di eccezionale poi il resto la squadra più o meno è quella che avete visto panchina chi ci abbiamo Donnarumma pronta sub entra la campionista però vi faccio vedere quello che ho provato maggiormente è il classico 3-5-2 con 55-70 di profondità 70 di ampiezza 5 di aree istruzioni solo rimane in avanti e svaria il CAC rimane in difesa agli esterni e per il resto niente si divertono i ragazzi poi ho provato un altro po' dei moduli 4-2-4 ve le batto lì il rombetto stretto però ancora devo capire come farli gire al meglio per ora quel 3-5-2 è quello che mi è piaciuto e più dettoci ragazzi ci vediamo su Twitch alla solita ciao 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 ciao